Mi chiamo Giulia Taioli, Giulietta di Verona. Allora, il vino nella mia vita conta un bel nove. Allora, il vino per me rappresenta la festa, rappresenta l'allegria, rappresenta un momento di condivisione e di unione per poter condividere momenti di felicità insieme ai miei amici e insieme alle persone a cui voglio bene. Allora, nasce soprattutto nelle feste e durante le occasioni in cui ci si ritrova per potersi divertire e nelle occasioni in cui si vuole condividere un momento di passione anche per il cibo, per la gastronomia. Un bell'aneddoto è stata proprio la settimana scorsa, prima di andare al cinema con la persona con cui condivido la mia vita, siamo andati a fare l'aperitivo accompagnato da degli stuzzichini, un bevi e mangia, un'unione di entrambe le cose dove ci siamo sciolti e abbiamo condiviso una serata insieme per poter essere più morbidi, più rilassati. L'alcol e il vino rilassa sempre.